Il 18 giugno presso il porto turistico di Agropoli si è tenuta l'inaugurazione del veliero Tortuga, che per la prossima stagione estiva viaggerà lungo la costa cilentana. Si arricchiscono i servizi turistici nel nostro porto, nella nostra città, un bellissimo veliero per mini crociere della costa cilentana, bellissimo, sono stato a bordo, davvero ogni comfort, elegantissimo, davvero diviene la voglia di salirci. Di farti una mini crociere, ristoranti a bordo, ecco le cose concrete che si fanno, le cose che non sono chiacchiere, che sono azioni concrete, che arricchiscono la gamma dei servizi turistici, perché i nostri turisti li vogliamo coccolare. Ed è anche però un servizio, un'opportunità per i nostri cittadini, non soltanto per i turisti e per i viaggiatori, perché anche noi ci possiamo godere una mezza giornata, una giornata di grande serenità, ammirando dal mare questa costa meravigliosa che è del Cilento.